una qualificazione che è compromessa nella partita di andata oggi cosa avete fatto quello di due parte o forse avete qualche ramai nel senso il momento mio è stato quando avete segnato sì secondo me oggi abbiamo dato tutto purtroppo non è bastato a partire all'andata ha complicato non poco le cose quindi partire sotto di due gol dovendo vincere 3 a 0 sicuramente non è facile perché comunque loro si chiudono e cercano di farti mai ripartendo la partita a un certo punto sarà messo sui binari giusti forse dobbiamo essere più bravi a sfruttare il momento invece subendo subito il pareggio anche l'inerzia della partita poi è cambiata siamo stati bravi a rimanere in partita a provarci fino alla fine poi alla fine ci siamo riusciti anche a segnare ma ovviamente incide poco a livello del passaggio del turno però questa è la dimostrazione che ci avevamo provato fino alla fine ci dispiace non aver mantenuto le premesse sicuramente siamo una società importante in ci e sicuramente non arriviamo a fare qualcosa di meglio ci dispiace non esserci riusciti però abbiamo volato tutto fino alla fine siamo dispiaciuti ma guardiamo avanti dove la squadra ha applicato maggiormente stagione dove c'è stato un momento c'è stato un periodo che potevate fare di tutto insomma dove sono i maggiori impianti? le impianti guardando indietro sono diverse in senso che è una stagione che non è che fin dall'inizio non è partita con equilibrio perché serie B serie C il pescaggio non il pescaggio è stato un campionato un po' strano fin dall'inizio e forse ci siamo fatti un po' troppo condizionare anche da questo magari però dovevamo essere più bravi più forti anche di questo e cercare di fare sicuramente un campionato migliore ripeto ce l'abbiamo messa tutta ci dispiace non essere riusciti a fare meglio di così però ormai andata guardiamo avanti ma al punto secondo te però la risurrezione quindi ci sono anche altri un po' di pressioni particolarmente un po' legge se questo ha includito negativamente sul nostro problema? sicuramente quando viene dalla risurrezione ci sono delle pressioni in più comunque c'è diciamo un po' di pessimismo nell'aria e nell'ambiente ma penso sia normale nel senso accade in tutte le piazze d'Italia quando retrocedi è una conseguenza diciamo scontata dobbiamo essere più bravi forse a invertire questo trend con le prestazioni e con i risultati c'è un provato non ci siamo riusciti dobbiamo essere più bravi in questo però anche per esempio la pressione l'obbligo di lice comunque questo signore ha detto che c'era proprio candidato o no? la stessa caratteristica o magari la connes voi in questa scala la spalla l'entella che eravamo su una carta con i risultati i premi hanno visto abbastanza troppo sì sicuramente sicuramente erano pressioni in più ma una piazza come Perugia in C giustamente punta a vincere poi Cesena ha fatto un campionato che si commenta da solo nel senso sia già stata sia all'inizio alla fine non ha mai accennato a rallentare e anche quello forse mentalmente quando vedi che gli altri non molano un centimetro può incidere perché rincorri, rincorri ma se tu corri veloce loro corrono più veloce di te non li prendi mai quindi sicuramente anche quello può aver inciso però ripeto dobbiamo essere più bravi ci dispiace non aver mantenuto le attese perché comunque è una piazza esigente ci dispiace però ripeto abbiamo cercato di dare tutto dall'inizio alla fine e purtroppo siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto